Iniziare il prima possibile la realizzazione degli assi viari. Lo chiede il Consiglio Direttivo Interprovinciale della Confcommercio di Lucca Massacarrara, riunitosi a Palazzo Sani. Secondo i commercianti, quello della viabilità è un tema cruciale per il presente e il futuro del nostro territorio ed i problemi sono sotto gli occhi di tutti. In primis il traffico pesante, opprimente, registrato ogni giorno sui viali della circonvallazione di Lucca e della Piana, ma anche i collegamenti scomodi sia su gomma che su rotaia con Firenze e altre importanti città toscane. La Confcommercio si dice fermamente convinta che l'unica vera soluzione per migliorare questa situazione sia rappresentata dagli assi viari. Al contrario, i provvedimenti di limitazione al traffico pesante ipotizzati in queste settimane, secondo i commercianti appaiono non risolutivi, anche tenendo conto del fatto che certi percorsi per chi esce dall'autostrada e deve effettuare carico e scarico merci, sono in ogni caso obbligatori, stante l'attuale sistema viario. Secondo Confcommercio, le istituzioni locali devono adoperarsi al massimo per esercitare una pressione sul governo che uscirà dalle elezioni del 4 marzo, per far sì che gli annunci degli ultimi decenni diventino realtà. Degli assi viari si sente parlare da una vita, concludono i commercianti. Adesso è il momento di passare una volta per tutte ai fatti concreti.